E a Budiabì il man of the match di Taranto Viterbese, il centrocampista entra nella ripresa e cambia l'inerzia della gara realizzando la rete decisiva per gli Dionici dopo il gol del vantaggio rosso-blu realizzato nel primo tempo da Antonini e pareggiato nel secondo tempo da Andreis Tre punti importanti per il Taranto che vince lo scontro salvezza con i laziali allontanando la zona calda della classifica il Taranto gravato da numerose assenze si modula con il 3-5-2 in porta lo squalificato Vannucchi è sostituito dall'Oliva in attacco c'è la coppia Guida-Tomasini, dall'altra parte la Viterbese con l'assetto tattico speculare a quello degli Dionici propone la coppia offensiva composta da Polidori e Volpicelli ad inizio gara grande occasione per la Viterbese, al settimo rodio dalla sinistra la mette in mezzo per il tiro di Polidori il difensore Manetta si oppone, la sfera viene raccolta da Andreis che sotto misura colpisce la traversa gol mancato, gol subito con il Taranto che al quindicesimo passa in vantaggio la Briola batte una punizione in aria per l'imperioso stacco di testa di Antonini che batte Fumagalli per l'1-0 dopo la mezz'ora tentativo dalla distanza del rosso-blu Guida, Fumagalli para in chiusura di frazione Viterbese vicina al pareggio, la punizione di Volpicelli deviata dalla barriera tarantina colpisce la traversa le squadre vanno a riposo sull'1-0 nella ripresa al ventiduesimo gli ospiti agguantano il pareggio, Rodio dalla sinistra la mette sul secondo palo per il destro di Andreis che supera l'Oliva per l'1-1 al trentunesimo il Taranto segna la rete che decide la gara Mastro Monaco dalla destra, crossa al centro per la mezza girata del neo entrato di Abì che insacca il 2-1 la Viterbese risponde poco dopo con la staffilata da fuori aria di Rodio l'Oliva si rifugia in corner nei minuti di recupero i gialloblu sfiorano il pari con il colpo di testa di Polidori che lambisce il palo, finisce 2-1 per il Taranto grazie a tutti